Una nuova, chiamiamola campagna, di moda per quanto riguarda la collezione dell'autunno 2021, che sarà proprio la prossima stagione che andremo a vivere, perché dopo l'estate c'è effettivamente parlando proprio l'autunno, viene ripeto ad essere lanciata a Stella McCartney e lo fa in maniera grande e davvero piacevole. Infatti pensate che la sua nuova collezione, autunno 2021, si chiama Our Time Has Come. Già il nome ci fa capire un po' quello che è, infatti, significa giunta alla nostra ora. Questa campagna va a mostrare degli animali che si risvegliano e vanno a popolare l'onda nella capitale del Regno Unito, vivono in maniera spensierata e vanno a sostituirsi agli umani e agli esseri umani. Le creature che vengono ad essere fotografate passeggiano in maniera disinvolta, tranquille e serenate tra il pubblico in delle zone più trafficate proprio di Londra, la capitale della Gran Bretagna. Andranno a utilizzare o meglio indossano delle felpe, degli abiti riffati, delle scarpe da ginnastica, della famosa disegnere in questione. Le foto sono belle, e parlano chiaro, e appartengono a Marthalos e Marcus Bicotto. Insomma, una nuova campagna di moda nuova, innovativa, fresca, gioviare e giovanile, che si chiama per l'appunto Our Time Has Come, che sarà dell'autono 2021, prossimo 2021. Il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto negato al prossimo video. Grazie a tutti.